Gentili telespettatori, buona giornata. E così l'avvocato Bernardini di Pace. Ho fatto qualche video su questo avvocato che sembrerebbe quasi tutti i giorni in televisione. Eh ma nei programmi televisivi quando si fissano con un personaggio lo cominci a invitare uno e poi lo invitano anche gli altri. Insomma, quando riesci a entrare nel circolo della televisione poi diventi un ospite fisso un po' dappertutto. E Bernardini di Pace, avvocato divorzista, sul caso Open Arms e Salvini dice ma come si può credere nella giustizia? Contro Salvini è un caso creato ad arte. E insomma, insomma, credo che quello che dice la Bernardini di Pace lo pensiamo praticamente tutti. Anche quelle di sinistra lo sanno. Lo sanno però va bene così, va bene così. Come si fa a tornare al governo che non ci vota nessuno a sinistra? Diranno cominciamo a farne fuori politicamente uno, eticamente non sarà bello. Eh lo so, insomma, non è che ha fatto niente di male sto Salvini però. Non vi ricordate i magistrati intercettati che complottavano con Luca Palamara? Vi ricordate che i magistrati in questa chat dicevano ma Salvini sta facendo il suo lavoro, ma non facciamo i ridicoli a pensare di processarlo perché sta facendo il suo lavoro e lo sta facendo anche bene. Dicevano i magistrati che parlavano con Palamara, quindi erano magistrati di sinistra, che ammettevano che Salvini stava facendo solo il suo lavoro e anche bene. E uno diceva, è anche forse l'unico che sta lavorando bene. Palamara rispondeva, sì ma dobbiamo attaccarlo. Avete capito? Perché era di centrodestra. Quindi contro Salvini, a prescindere che lui stia lavorando bene, male, un po' così, un po' cosà, dobbiamo attaccarlo. Quindi quando voi capite che il capo del sistema ai tempi che era Luca Palamara che diceva agli altri, andiamo contro Salvini, non importa che stia facendo le cose bene ma dobbiamo andare contro di lui, allora capite perfettamente quello che sta succedendo a Matteo Salvini e quello che dice l'avvocato Bernardini de Pace. Così si parla di open arms, l'accusa chiede i sei anni, lo sappiamo, le parti civili chiedono un milione di sarcimento a Salvini, siamo nella trasmissione 4-6 di sera, programma di Rete4, condotto da Sbarra e Poletti. Tra gli ospiti c'è Anna Maria Bernardini de Pace, celebre avvocato. Prende una posizione netta su questa vicenda e dice mi domando come sia possibile che venga accusato Salvini di sequestro di persona quando questi migranti erano sulla barca da giorni e il comandante aveva rifiutato lo sbarco in qualsiasi porto, sia della Spagna che altri paesi. E poi aggiunge Salvini si è trovato delle persone già sequestrate. Il comandante della nave non voleva portare queste persone da nessun'altra parte, solo in Italia, per sfidare le autorità italiane e in particolare il tanto odiato Matteo Salvini, il politico barbuto. Quindi cercavano lo scontro, hanno tenuto 19 giorni i migranti su sta nave che in 19 giorni quasi potevano fare il giro della terra, no? Ecco, in 19 giorni ci andavano 20 volte avanti e indietro con la Spagna. Ecco, quindi quando la Bernardini de Pace ma Salvini si è trovato già delle persone sequestrate dalla Open Arms, non è stato lui. E aggiunge lì c'era una volontà specifica di arrivare in Italia per creare un caso. Però per lo stesso motivo non riesco a capire perché Salvini viene processato mentre Luciana Lamorgese, che aveva fatto successivamente la stessa identica cosa, invece no, non se l'è calcolata nessuno, zero. Infatti, proprio come fece Salvini, Lamorgese bloccò un barcone di migranti, aggiungo io, per 11 giorni. Eppure non è mai finita sotto le luci e i riflettori della magistratura. Ricordate Palamara che diceva «Ho capito che Salvini non ha fatto niente, ma dobbiamo attaccarlo». Lui era il capo del sistema. Lui era il capo di quella frangia della magistratura che utilizzava la magistratura e le sentenze come scure politica. Quindi, dato che questo sistema, a quanto pare, non è mai finito, anzi, continua vivo e vegeto, evidentemente quel «dobbiamo attaccare Salvini» probabilmente c'è anche oggi. Eh, scusate, non ci stiamo qui a raccontarci la storia di Babbo Natale, la storia del mago. Ecco, la realtà è questa. Quindi quello che dice la Bernardini de Pace è, secondo me, è una fotografia generosa, mi piace come parlo, no? Generosa della realtà. «La realtà ti fa male, lo so, nessuno mi può giudicare tranne il PM». Vabbè, ogni tanto vi faccio qualche jingle, qualche canzoncina. Intanto dice sempre la de pace. Dice «C'è una confusione tale che non so a cosa mi devo rifare per credere nella giustizia». Grande sto avvocato, davvero. A me non sembra che ci siano gli estremi per il reato di sequestro di persona, perché questo significherebbe togliere a qualcuno la possibilità di muoversi e andare dove vuole. Il comandante avrebbe potuto approdare a un qualsiasi altro porto. Non era costretto da nessuno a restare in mare. Ecco. È come se qualcuno bussa alla vostra porta e voi non lo fate entrare. Dice, «Io non lo faccio entrare a casa mia». E quello sta lì fuori 19 giorni. Poi arriva un magistrato, ti suona e ti dice «Sono il magistrato». Mi dica, lei è accusato di sequestro di persona perché non ha fatto entrare questa persona che è 19 giorni che lì fuori. Ah, quindi se non faccio entrare a casa mia delle persone, vengo denunciato per sequestro di persona? Eh? Capite che non regge questa roba? Non regge. Eh, va bene. Comunque, la Bernardini de Pace è una signora, è un avvocato che ha il coraggio di andare in televisione a dire esattamente quello che pensano praticamente lo 90% degli italiani. Perché coraggio? E insomma, la magistratura potrebbe dirti «Io adesso ti denuncio» perché tu stai diffamandomi, stai dicendo che io non sto applicando la giustizia ma sto facendo una sentenza politica. quindi la Bernardini de Pace andando in televisione a dire praticamente che è un processo politico rischia di finire anche lei in tribunale con l'accusa di diffamare i magistrati di questo caso dicendo che dipingendoli come dei processatori politici. Per quello che dico accoraggio questa Bernardini de Pace. grazie a tutti e arrivederci a presto.